Diminuiscono in tutta Italia e anche in Molise gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ma tornano a crescere nel 2020 le morti bianche. Il Covid non ha fermato, anzi è incrementato il fenomeno degli infortuni mortali denunciati in regione del 28,6%, in linea con la media nazionale del 20%. Lo certifica l'ANMI, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, che analizza i dati, sottolineando come il lockdown abbia diminuito le ore lavorative effettive e pertanto gli infortuni del 32%, meno 22% a livello nazionale, ma non ha fermato il lavoro nero che è andato avanti anche durante i mesi di stop forzato a causa della pandemia. Insomma, il Covid ha fatto paradossalmente emergere il sommerso. Molte malattie professionali nel periodo da gennaio ad agosto 2020 sono state determinate proprio dal Covid, spiega Michelina Ferrazzo, presidente regionale dell'ANMI. Non a caso le denunce totali sono aumentate dell'86% proprio in Lombardia, nei mesi di chiusura a causa del virus. Sono stati 655 gli infortuni totali denunciati nei primi 8 mesi dell'anno in provincia di Campobasso, 239 in quella di Isernia, in diminuzione rispetto al 2019. 60 le malattie professionali in provincia di Campobasso, 30 in Isernia. Le morti sul lavoro sono state 9 dall'inizio del 2020, a fronte delle 7 del 2019. In crescita anche nel resto del paese, 823 rispetto alle 685, alcune delle quali dovute proprio al Covid. Domenica l'ANMI celebrerà la settantesima giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Mai come quest'anno, con l'emergenza sanitaria, dichiara il presidente nazionale Zoello Forni, il tema della sicurezza e della salute sono una priorità. Grazie. 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 Grazie.